Quelli che state vedendo sono i rendering ufficiali, ossia le immagini proiettate al futuro, di come la pista Posh si trasformerebbe dopo l'ampliamento proposto dalla Nardot Technical Center che la gestisce e approvato nei giorni scorsi in Regione. Un progetto ampio che prevede l'esproprio, lo ricordiamo, di 350 ettari di terreno, tra cui questa area mista bosco e macchia mediterranea che state vedendo nelle immagini, e poi le aziende e strutture ricettive che ricadono nella zona limitrofa all'attuale pista. Ci sono esattamente 134 persone, tra proprietari terrieri e imprenditori, che hanno incassato la tegola dell'esproprio tra capo e coda, e molti, con i rispettivi legali, sono pronti a ricorrere al TAR. Ma come può la Regione espropriare 350 ettari di terreno, tra cui habitat naturali tutelati dalla direttiva europea, bypassando tra l'altro anche il confronto pubblico che lei stessa nel 2017 ha sancito come obbligatorio con la legge sulla partecipazione? Può farlo con la formula della pubblica utilità, ossia testimoniando che nel progetto approvato ci siano finalità legate alla salute dell'ambiente e dell'uomo. E non è un caso di fatto che tra edifici tecnici e amministrativi, una mensa, un parcheggio, un centro di logistica e manutenzione, una stazione di servizio, e le nuove nove piste previste da progetto, spuntino anche un eliporto per il trasporto di ammalati e un centro di protezione civile regionale. Il primo, però, va detto, è lontano 27 chilometri dall'ospedale più vicino, quello di Copertino, e 39 chilometri dal secondo ospedale più vicino, quello leccese. Dati oggettivi che alimentano i dubbi sollevati da quanti vogliono vederci chiaro, perché ben venga lo sviluppo, purché trasparente e rispettoso. Intanto, per le biodiversità che l'ampliamento della pista fagociterebbe, la Nardotecnical Center si è impegnata a rinaturalizzare e riforestare l'area limitrofa al nuovo perimetro. Queste le foto, sempre ufficiali, adotte a titolo di esempio. In totale le opere di compensazione promesse si estenderebbero su 500 ettari, intervento anch'esso dichiarato come di pubblica utilità. In cambio dei 350 ettari di terreno tutelati dalla direttiva UE sacrificati. L'ampliamento continua in questi giorni ad alimentare il dibattito pubblico, politico, sociale e imprenditoriale. Nelle scorse ore i rendering e i video che vi abbiamo mostrato sono stati condivisi dai consiglieri d'opposizione di Porto Cesario, Francesco Schito, Stefano Mi e Anna Paladini, durante un incontro pubblico che gli stessi hanno promosso per chiedere ancora una volta chiarezza. Chiarezza che invocano anche le associazioni di categoria del settore turistico ricettivo sui Working Cube, unità abitative e lavorative al tempo stesso previste nel progetto Posh e destinate ai lavoratori dell'indotto. Unità che in base alla destinazione di area della pista e ai titoli autorizzativi non potrebbero essere realizzate, in quanto non produttive a differenza di quelle concesse. Eppure la soluzione c'è. Basterebbe censirle come foresterie destinate ai soli lavoratori interni e per far questo basterebbe un solo titolo edilizio, rilasciato dal comune di Nardò, nella cui area ricadono, senza alcuna conferenza dei servizi e senza alcuna variante urbanistica. Che sia questo il prossimo passo?